Arriva la risposta del sindaco di Agrigento Marco Zambuto alla proposta avanzata dalla fondazione Agire Insieme di Salvatore Moncada per sponsorizzare la ristrutturazione dei locali della scuola elementare di piazza del Vespro a villaggio Mosè. La fondazione infatti intende donare parte delle proprie risorse senza alcun ulteriore fine se non quello di migliorare le condizioni della vita scolastica dei bambini, innalzando la qualità dell'attuale scuola elementare al villaggio Mosè e determinando un sostanziale arricchimento del patrimonio comunale che attualmente è privato dell'uso di questo bene. Il sindaco Marco Zambuto ha già fissato per giorno 9 novembre prossimo alle ore 10.30 presso il palazzo comunale un incontro con la fondazione Agire Insieme al fine di individuare gli interventi da effettuare nonché ogni altro aspetto tecnico preliminare alla redazione del progetto. Massima apertura e disponibilità dunque da parte dell'amministrazione comunale che tuttavia deve chiedere allo sponsor il regolare possesso da parte delle imprese esecutrice dei requisiti di legge dovuti anche nel caso di esecuzione di lavori effettuati direttamente dallo stesso sponsor. Il primo cittadino in una nota indirizzata alla stessa fondazione ha voluto esprimere il plauso ed il ringraziamento dell'amministrazione comunale per la meritoria proposta di ristrutturazione della scuola elementare del villaggio Mosè, sottolineando che l'iniziativa risulta conforme allo spirito ai contenuti espressi nel vigente regolamento comunale.